eccoci qua lunedì 30 settembre un altro giretto uno degli ultimi qua sotto un faggio carino ma più di mezz'ora che siamo nel bosco troppo secco chiodini eh sì e quando iniziano i chiodini è finita per i porcini ma che è stato la lumaca l'ha mangiato completamente ah già ci raccoglie sembra messo lì apposta piano bellissimo e freschissimo si bene molto bene apri il buco ma sei solo è solo mattina magra mattina magra anche lumaca grazie speriamo che è sano e bello si è bello una pipa una bella pipotta va da qua bel porcino vediamo questo qua com'è questo qua sarà vecchio andato sicuramente eh sì c'è una radice che lo blocca anche è stato sì è una roba una roba marcia ora siamo qua a concimare sono un sacco di amaniti giovani fresche piccole ma porcini poco o niente una giornata muffa allora già ci siamo ancora qui ai tuoi pini ai tuoi pini che vogliono salutarti per il fine stagione con questo bimbetto qua un bimbetto bello nascosto che dovremo vedere se riusciamo a cavare senza romperlo mamma che bello lo dico io sì guarda che viene tranquillamente fresco bellissimo e fantastico e si è abbronzato quel pelino lì che gli picchi al sole al pomeriggio sabato non non era ancora uscito qui nel misto misto c'è un faggio ogni tanto come potete vedere siamo agli sgoccioli la stagione aerobica sembra stia per finire domani pioggia per un giorno un giorno e mezzo e poi e poi freddo freddo dicono che arriva il freddo minime di 1 2 gradi oggi è andata maluccio 3 o 4 funghi a testa male si fa per dire siamo qui la fortuna di camminare nella natura con le nostre gambe sane è impagabile quindi però è stata una stagione fantastica un sacco di funghi un sacco di divertimento